salve a tutti ragazzi e benvenuti da civi questo nuovo video di bene andiamo pure avanti visto che non possiamo fare niente del teletrasporto nulla vediamo se riusciamo a uccidere questo andrà un po avanti e sarà divertente perché c'è molto da fare qui allora risponde a telefono non ce l'è bisogno meno che lo finiamo capitolo 9 che dopo incontreremo arlecchino infatti non suona e siamo a posto allora qui non c'è niente andiamo avanti perché adesso qui c'è e mi ricordo che c'era qualcuno che non mi piaceva per un cazzo allora tanto facciamo così ma porca vacca la cosa è ok la farfalla la vorrei questo facciamo così ormai è andata io non voglio sorprese fare così facciamo così e facciamo così è che lui lui non è simpatico neanche quando dorme eccoci qua perfetto gli andiamo dietro grazie ok ok eh cazzo mi ha tirato a sé e non mi piace per un cazzo sta cosa tac ok ah è vero lui c'è accidenti a lui che faceva sta cocata sta cacata vai vale scusate ma me l'ho dimenticato sapevo che era il talo ma non che facesse così eh vabbè è andata così adesso andata così tac e questo è andato poi la palla presa qui facciamo così e questo è andata perfetto quindi prendiamo questo molto importante per i potenziamenti ottimo e anche molto costosa bene bene adesso con te ce l'aveva fatta non facilmente perché è stato un po' distratto però dai si fa poi chi ci sarà qui che mi sia lasciato a scappare qualcosa no mi sembra di no andiamo qua ok perfect è stato molto carino dammi ciò questo soprattutto è stato molto premuroso da parte sua ecco qui vediamo qua e qui ci sarà da divertirsi perfetto ok adesso non ricordo un caso quindi guardo il mio video e ci vediamo poco ok dobbiamo andare verso il boss della sfilata quello che è il primo che è stato affrontato all'inizio del gioco allora ci riposiamo così l'ingegnero del torto subito qui c'è una una parlata del grillo che c'è già stata perché quando ho avviato video ho dato vedere che cosa ci fosse mi è partito la parlata comunque diceva è successo una corte libera dell'hotel basta questo è il sugo comunque c'è tutto nel primo nella prima run non è che i dialoghi li abbiamo guardati in questa visto che li avevamo già visti nell'altra what up perfetto qui non c'è niente e niente andiamo e vediamo volevo vedere se riesco a fare questa ma non ci contate troppo vediamo un po come va è perché dopo io poi faccio sempre queste prove nei momenti sbagliati quindi ci muoio però insomma ok 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 cazzo i tempi è veramente difficile capirli ok ce l'ho fatta e niente è veramente un tesino per me a capirli accidenti a questa è una cosa che non mi piace scusate ma devo vederlo almeno una volta il boss per capirlo questa nonna mi aspettavo che facesse il fuscio insomma quando si buttava per terra ok adesso vabbè ha capito dai adesso si affronta questo si faceva senza non dico non damage ma quasi perché ho dovuto provare ok Grazie a tutti 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 Perché un pezzo qua potrebbe essere Di vitale importanza No, non c'è niente Perfetto Ok, mamma mia Che palla quel boss E niente, entriamo Oh, non c'è niente E' un po' E parliamo con tutti Per la completezza Sia dei corsi importanti ve le dirò poi E adesso se sono dopo la con Tonia Ciurrito, ciurrito, sì Ok, parliamo con lei Perfetto Ci dovevi dare un gesto Che noi avevamo già però comunque sia Perfetto, adesso possiamo Tranquilamente andare giù E fare quello che dobbiamo fare Perché c'è da ampliare un Inventario che è questo Del signor Intanto lei Abbiamo già detto tutto Ok Non è niente di importante Dunque l'inventario da ampliare Del signore qui Ok Perfetto Acquista Allora vediamo cosa c'è Dunque noi questi 26 di qua Noi avevamo tanta di sta roba Due rane insomma Plus Queste qui ne abbiamo 36 Queste ne servono un po' di meno Però Queste ne abbiamo 89 Queste Effettivamente questa serve E queste servono Poi serve questo Serve questo Serve questo Questo Per competenza Non vedo un cazzo È questo qua Che ci serviva Perfetto Direi che siamo a cavallo Ah questi sono finiti Scusate Ho fatto la mia cacata Bella e buona Però comunque sia Siamo a posto Parlo Non c'è più niente da dire E adesso Direi di andare a parlare Con Benigni Perché tanto abbiamo preso Questo cilindro Ce lo dovrà decifrare E ci darà accesso A quella parte Diciamo Opzionale Insomma Si chiamavano come volete Insomma Naturrito Sì Perfetto E questo è dove c'era Quello tipo di fuori Che era miniatore Di fuori Di quello là Adesso ci aprirà Una zona nuova Perfetto Qui non c'è niente Niente altro Che possiamo fare Quanti cilindri Di questi abbiamo Tre Giusto per Così a meno Li finiamo tutti No questo No scusate Questo Questo l'abbiamo fatto L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto Facciamo questo Questo cos'è Il l'acido Allora facciamo questo Questo E adesso aspettiamo i tre Perfetto E anche questa È andata Qui non penso ci sia Nient'altro da fare Ok questa Mi raccomando Questa qui La quest Che nel primo run Gli abbiamo detto Una bugia La verità E questa volta Dobbiamo dirgli Una bugia Comunque vi dirò Io cosa dire Rispetto a quella Così ci dà L'ultimo disco E abbiamo finalmente Finito Con i dischi E facciamo La ciment finale Dei dischi Vedete Quindi manca Uno qua E questo Da comprare Da comprare Fra poco Di quelli d'oro Da mercante Che troveremo Bene Sono abbastanza In contesto Il mercante Più avanti Quindi non vi preoccupate Dovevo fare Ancora un'altra zona Prima che venga Quindi state tranquilli E adesso Adesso dobbiamo andare A suonare Il pienoforte Per accedere A nuova zona Come ci ha detto La signora Qui Ok Andiamo qua Vai Esatto E nuova zona Fu Perfetto Adesso andiamo Allo Stargazer E ci trasportiamo In quella zona Opzionale Che vi avevo detto Insomma Quella che abbiamo Piede scoperto Grazie a questa cosa Vediamo un po' Dove va Essere Qua Sì Potremmo andare Sia di qua Che di là Perché deve essere Lo facciamo prima Qua Così Lo facciamo direttamente Nel prossimo episodio Vediamo un po' Sto pensando Scusate Fatemi vedere Come se È già aperta Comunque dobbiamo parlare Col tipo Col cano Che di fuori Adesso ricordarsi Deve essere Di qua O di là È un bel problema No Non è qua Di qua Ok Dobbiamo andare Di là E parlare Col tipo C'è che Abbiamo il corso Che possiamo fare La cosa Insomma È stato chiaro No E porca vacca Una bella passeggiata Sperando che ci sia Dovrebbe esserci ancora Lui Lo sapevo Che devo trasformermi A questo Scusate Ma La memoria È quella che è Esatto È qui Ed è aperto Perfetto Vediamo cosa Da dirci Oh No Non ci interessa Nella scorsa La Quindi non ci interessa Più di tanto Ok Entriamo Adesso Ci salutiamo Che così Facciamo tutto Nel prossimo episodio Guardate che bello E qui Oddio Ho scattato Ho scattato la tavola Non mi sono neanche accorto E qui c'è ufficialmente L'inizio della tragedia Che faremo Tranquillamente Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Come al solito Vi invito a lasciare un like E un commento Mi raccomando Lasciate un commento E fammi sapere Cosa ne pensate Adesso in assoluto Le cima Ciao ciao